Rieccomi, dicevo, stavamo parlando di risveratrolo, risveratrolo ovviamente è d'alto dosaggio, lo si trova tranquillamente, se volete poi vi dico quello che utilizzo io, diciamo adesso facilmente rinvenibile, prima di questo benedetto coronavirus era facilmente reperibile via Amazon a prezzi relativamente contenuti, soprattutto rispetto al NADH, chiamiamola, all'NR e diciamo che ha concentrazioni ovviamente migliaia di volte superiore a quello che troviamo come tracce nel vino, nel grapefruit, nel melograno eccetera eccetera, per cui diciamo se lo vogliamo prendere si prende così, è uno dei pochi, supplementi, integratori che o li prendi o non c'è niente da fare e sembra che abbia appunto un effetto mima digiuno, infatti lui dice la benzina è il NADH che nell'anziano o meglio la persona di 50 anni ha la metà di NADH, quindi di energia cellulare rispetto al ragazzino, per non parlare poi diciamo andando avanti con l'età, per cui il resveratrolo è la chiave che attiva, adesso ne abbiamo già parlato ma voglio entrare sempre meno nel dettaglio, attiva un pool di geni che aggiustano la cellula, che regolano diciamo, che disciplinano i meccanici della cellula, quindi che facilitano l'eliminazione di cellule difettose, che aggiustano le cellule, l'energia dei meccanici è il NADH, quindi questa è la sintesi Sinclair, quindi lui dice io prendo la metformin per la longevity, quindi per la lunga vita, l'elisir di lunga vita, la metformina è il resveratrolo, e questo è quanto, è un capitolo molto importante, io cerco di documentarmi sempre e costantemente, vedo che siamo qua, ci sono due cose ma anche lì, non so se ne valga la pena, vi accenno, tra le due forme l'NR, nicotinamide, ribonucleoside, è quello più testato, o meglio, più testato, è talmente recente che ci sono praticamente solo due studi, dove però dimostra, siccome queste molecole sono difficilmente assimilabili, questa molecola funziona, in pratica hanno guardato le cellule dopo la somministrazione, somministrazione è come se fosse un pharma, comunque dopo l'assunzione dell'integratore, e i livelli di NADH intracellulare sono aumentati in maniera decisamente significativa, quindi livello energetico, livello prestazionale, ma è appunto la benzina della cellula, e quindi la cellula, diciamo, con la chiave, il resveratrolo, si riaggiusta, oppure, diciamo, in altre situazioni, proprio come nel digiuno, se non funziona, c'è l'apoptosi, l'autofagia, quindi si automangia, si autelimina, o parliamo di, ripetiamo, siamo in questo periodo, parliamo di coronavirus, vi riporto solo il video, il contenuto del video è, direi, Keto Doctor, Keto Doctor con la K, sono tutti articoli in inglese, poi metto il link, ma ve lo traduco, il succo di questo articolo dice, vi ripeto, dice che sul topo si è dimostrato che con la keto, quindi praticamente dando alimenti keto al topo rispetto alla popolazione che mangiava il cavolo che voleva, i topi che seguono la keto sono più protetti dal coronavirus, perché sembra che abbiano più linfociti T, quindi determina, sono cellule del sistema immunitario, che proteggono i polmoni, quindi soprattutto la situazione alveolare, eccetera, e questo è un dato. Il secondo dato è, e questo è un fatto noto, i corpi chetonici, e in particolare direi, l'acido beta-idrossibutirico ha un'azione di inibizione su una molecola che ha la funzione praticamente di accelerare sull'infiammazione, si chiama, e lo leggo perché è N-L-R-P-3-inflammasone, è un nome che, vabbè, adesso l'ho tradotto in italiano, non so neanche se esista, comunque, ovviamente gli articoli sono in inglese, ma poco importa, quindi questa molecola è responsabile dell'infiammazione, potrebbe essere la gota nelle articolazioni come l'artrite e l'artrosi, nelle articolazioni potrebbe essere a livello coronarico responsabile dell'infiammazione e della formazione di placca e dell'infarto, sembra che proprio sia così, e il coronavirus la utilizza, diciamo, la accende per questa tempesta di citochine, che è quella che poi ci danneggia a livello polmonare, quindi sembra che il topo con la cheto sia decisamente più protetto, speriamo che lo sia anche l'uomo, a questo punto, diciamo, ripeto, il topo è un pianeta a sé stante. Terza cosa, migliora l'umore, siamo un po' agitati, qualcuno un po' depresso, comunque, tendenzialmente è un periodo di agitazione, se uno non si mette a fare yoga, meditazione, è facile cadere nello sconforto, notizie brutte, la cheto lo sappiamo, lo abbiamo provato, molti di noi se lo dimenticano perché ce lo dimentichiamo, perché siamo da tanto in cheto, però ti dà quella serenità, quella pacatezza, quella sensazione di valutare le cose dall'esterno, come se, con più obiettività, come se le vedesse un altro, come se si fosse al cinema, quindi consapevoli, diciamo, di una situazione che si svolge su un palcoscenico. Niente, questi qua sono più o meno i concetti, stavo guardando che, ritorno un po' all'inizio, mi ero fatto un appuntino, ma ne avevo già parlato all'inizio, la cheto, se mangi cheto poi c'è anche un più facile controllo della fame, lo sappiamo tutti, è un po' come il discorso del digiuno, i colpi che tonici tengono, al contrario dello zucchero, tengono facilmente a controllo della fame, poi c'è chi ci riesce di più, c'è chi ci riesce di meno, sono proprio stanco, non riesco a parlare, scusatemi, a fine giornata, distrutto, dalle sei e mezza del mattino. E con questo vi saluto, lasciatemi commenti, se vi è piaciuto mettetemi un like, shareate, condividete, iscrivetevi al gruppo, quelli del gruppo mi raccomando si iscrivano su questo cavolo di canale e shareate, condividete, deve crescere ancora, adesso che abbiamo tempo, poi stavo sondando la possibilità di fare appunto qualcosa a livello di anche teleconference, studiamoci ragazzi, è un momento in cui a parte situazioni difficili e lavorative, poi abbiamo spazi, lo studio attualmente non funziona, se non proprio per situazioni eventualmente disperate, ma direi che se ne deve, se ne può e se ne deve fare a meno, ci vediamo in video, siamo più sicuri tutti, soprattutto voi, perché lasciamo stare. Con tutto questo vi auguro una buona giornata, fatemi sapere, buona giornata, ricordatevi della mia mail dot a rebizzo chiocciola gmail punto com e quindi fatemi sapere le vostre idee, contattatemi se avete bisogno appunto di un parere professionale, privato, video, quello che volete. Ciao, buona serata, doc Andrea Rebizzo.